Bravo sei, in silenzio radio. Vi faccio vedere che sono anche attive le nuove ricompense per tutti coloro che vedranno le mie live perché ho i drop attivi di Call of Duty Modern Warfare. Guardando un'ora di live otterrete 30 minuti di doppi punti, guardando due ore otterrete l'emblema Wings of Valor, tre ore best in class uno spray, guardando quattro ore un biglietto da visita animato. Quindi mi raccomando ragazzi ci sono queste ricompense per tutti coloro che guarderanno le mie live dal 3 di dicembre alle ore 19 quindi si sono attivati ieri sera fino al 10 dicembre alle ore 19. Non perdete anche questa occasione perché voi mi direte come fate a prendere quel biglietto da visita, come fai ad avere quello spray perché sono delle ricompense soltanto a tempo limitato. Quindi vi aspetto oggi alle 13.30 così comincerete ad accumulare i timer. E passate poi ad iscrivervi sul mio canale di Telegram perché riportiamo tutte le notizie 24 ore su 24 sul mondo di Call of Duty così non ne perderete neanche una. 24 ore su 24 ragazzi, ve lo posso assicurare. Allora andiamo direttamente nel gioco così vi faccio vedere le novità più importanti e poi vi dico anche della patch 1.10. Come vedete all'interno della schermata principale si è aggiunto un nuovo tab negozio, mancherebbe il quinto che ancora non sappiamo che dovrebbe essere la Bat Royale ma dovrebbe arrivare appunto più in là. Infatti abbiamo visto nella schermata precedente che mancava un tab, adesso magicamente sono diventati 4 anziché 5 e si è attivato appunto il negozio. Partiamo da quest'ultima novità perché è sicuramente quella più importante. C'è questo pacchetto al costo di 1800 Call of Duty Point con diverse skin tra cui appunto una skin per arma, una skin per pistola, diversi biglietti da visita, un salto del livello del past battaglia e diversi biglietti ed emblemi. Poi abbiamo gli operatori identità 1500 è possibile sbloccare questa skin appunto operatore e un altro diversi biglietti da visita, mitraglietta in versione limitata. Quindi come abbiamo visto su COD Mobile ci sono alcune cose che si possono comprare direttamente in game. Si possono comprare anche gli oggetti arma come occhio della tigre, piccola fiamma, porta fortuna, un adesivo. Questa è veramente molto molto bella ragazzi, molto particolare al costo di 1000 COD Point. E poi c'è ovviamente il franchise nel negozio della serie che ti fa vedere appunto quanto costano i Call of Duty Point. Ieri sera in live ne abbiamo comprati 1100 per comprare appunto il past battaglia di cui adesso vi parlerò approfonditamente. Andiamo nel past battaglia e si sono attivati appunto questi 100 livelli che vi avevo anticipato e che avevo fatto vedere anche nella versione inglese. 100 livelli che ovviamente vi permetteranno di attivare nuove visioni, adesso ci arriveremo, e anche nuove ricompense all'interno del gioco. Come vedete ho il gettone dei doppi punti, ho un nuovo orologio da poter utilizzare, ho appunto una nuova skin da poter attivare e una nuova skin per ottenere Mara all'interno del game. Vi faccio vedere rapidamente tutte le varie ricompense così vi fate a grandi linee un'idea. Cosa cambia tra tutti i diversi appunto bonus? Dove leggerete gratis sono ovviamente tutti i livelli che potete ottenere all'interno del past battaglia gratuito. Tutti gli altri mi si sono attivati acquistando appunto il past battaglia a pagamento. Di past battaglia a pagamento ce ne sono disponibili due, quello da 1000 code point che vi permette appunto di ottenere le ricompense che state vedendo e quello da 2400 code point che oltre alle ricompense che state vedendo vi schippa già 20 livelli, quindi partirete dal past battaglia livello 21. La cosa molto figa di questo past battaglia a pagamento dei 1000 o dei 2400 code point è che all'interno come potete notare potremo sbloccare a determinati livelli i code point. Considerando che ogni season costerà 1000 code point e con il past battaglia a pagamento ne avremo 1300 livellandolo tutto, considerate che noi avremo sempre quei 1000 code point gratis per comprare appunto gratis tutte le season successive. Li compriamo la prima volta quindi 10 euro, ci facciamo 1300 code point e abbiamo poi 300 code point gratis da utilizzare per la season successiva. Ovviamente a livello 15, a livello 31 si sbloccano, guardate questo che è bello a tutto gas, a livello 15, a livello 31 si sbloccano le nuove armi, l'Olger e la Ram 7 che è un fucile d'assalto e una mitragliatrice leggera di cui abbiamo già parlato nei giorni passati, sono veramente molto molto carine soprattutto il fucile d'assalto. Ecco le varie addirittura orologi dove qui vi fa addirittura il contapassi di stile Garmin, poi abbiamo ovviamente i vari emblemi, i nuovi progetti armi, il gettone dei doppi punti, il porta fortuna epico come charm, 100 altri code point gratis che avremo a livello 98, il progetto corruttore e poi la skin operatore leggendario che si sbloccano all'interno del gioco. Ma come funzionano le nuove missioni all'interno del titolo? Andiamo in caserma, andiamo in missioni e sfide, andiamo allora innanzitutto alle sfide giornaliere non è cambiato nulla perché sono sempre le 3-4 missioni giornaliere. Quello che ha cambiato è che oltre a tutte le missioni che avevamo precedentemente, queste qui ragazzi non vi sono state cancellate, quindi se le dovevate completare o le state completando ancora sono attive, ogni volta che voi raggiungerete un determinato livello all'interno del pass battaglia, vi attiverà una nuova missione. Eccola qui, mi si attiva ad esempio la missione Operatore Mara. Devo fare questi 4 obiettivi di cui uno già si è buggato perché ho notato che ho già fatto queste 3 serie di uccisioni 3 volte ma non me l'ha dato e in questo modo poi andremo a sbloccare la skin Operatore Mara. Anche questa l'ho sbloccata a livello 0 e poi andremo a fare appunto anche in questo caso le varie sfide e come noterete le missioni Operatore si sbloccheranno a diversi livelli del pass battaglia. Vi faccio vedere anche tutte le missioni che si sbloccano man mano che andremo andando avanti appunto nel pass battaglia. Cosa interessante sono tutte skin, tutte varianti per quanto riguarda i vari operatori all'interno del titolo ma si attiveranno anche nuovi progetti arma che queste però sono già attive indipendentemente dal pass battaglia. Ad esempio questa qui si sblocca al livello 100 del pass battaglia. Poi dovremo fare 15 uccisioni usando mitragliette, una partita guerra terrestre, 3 uccisioni senza morire per 3 volte e 2 mosse finali. Quindi non sono neanche difficilissime per ottenere appunto tutte le skin Operatore. Vi faccio vedere anche come è cambiato il menu delle sfide. Questa era la Season 0 che non so perché ma è tornata indietro e ovviamente è bloccata. Con la Season 1 appunto ripartiremo con i livelli. Ogni livello, ogni raggiungimento di livello dell'esperienza classica, quindi dal 55 al 156 si sbloccherà una nuova sfida. Facendo queste nuove sfide si sbloccheranno i nuovi nastri e sotto ripartirà. Sblocca un nuovo emblema stagionale ogni 10 sfide. Ma che cos'è questo emblema stagionale? Andiamo in identità, andiamo in emblemi e vi faccio vedere che avendo fatto le sfide della Season 0 vi va a sbloccare l'emblema relativo appunto a quante sfide avevate sbloccato. Vedete ad esempio ce n'ho 2. Ho segnalato già l'Infidi World che ci sono dei problemi in merito a questa sfida perché ad esempio io avevo fatto 50 sfide quindi dovrei avere 5 emblemi, invece ne ho soltanto 2. Alcuni ne hanno completate 10 e ne hanno soltanto 5. Alcuni ne hanno completate 10 e ne hanno soltanto 6. Quindi ragazzi questa cosa ancora è bloccata e quindi spero di farvi sapere a riguardo appunto novità. Molto carina questa cosa che andando a fare appunto le sfide ci danno questi emblemi stagionali che poi possiamo utilizzare per metterli vicino al nostro nome. Vi faccio vedere altre cose all'interno del titolo. Nel filtro ovviamente c'è il death match, tutti e contro tutti, attacchi informatico, dominio, cerchi e distruggi, quartiere generale, postazione, uccisione confermata, death match 20 giocatori, death match o meglio dominio 20 giocatori. Nella versione veterano uccisione confermata, quartiere generale, cerchi e distruggi, dominio, attacchi informatico, veterano, attacco e death match a squadre, veterano. E' stata introdotta la nuova modalità, se possiamo definirla così, con la nuova mappa Crash che adesso andrà in sottofondo e di cui vi devo anche dare alcune informazioni ed è stata introdotta anche la modalità rinforzo. Ma buttiamoci subito nelle novità della patch 1.10 perché poi vi devo dire altre curiosità. Innanzitutto è stata aggiunta la modalità rinforza, aggiunta la playlist Crash 24-7, aggiunte le mappe Ramasa e Gun Runner su death match 20 giocatori e dominio 20 giocatori, 20 contro 20. Aggiunte le mappe notturne su team death match veterano, cerchi e distruggi, attacchi informatico, l'avevo detto che adesso veterano sarebbe stato aumentato, sarebbe aumentato in termini appunto di mappe. E' stato rimosso il gioco delle armi ma rimarrà nelle partite private ed è stata rimossa la playlist Shouthouse 24-7. Sono stati rimossi i tornei 2v2 perché erano in versione beta, a brevissimo arriveranno nella versione finale. Sono stati fixati bug tra cui quello dello scudo d'assalto e di alcune sfide, aumentata l'efficacia dei proiettili FMJ sulle serie di punti ed è stato nerfato l'accessorio del palettoni per il revolver .357 perché era veramente troppo troppo forte. Il menu ora mostra statistiche migliori per il danno delle mitragliatrici pesanti. E' stato aggiunto il checkpoint dopo il terzo hacking in operazione Brimstone. Queste le novità più importanti all'interno del gioco. Avete visto anche che è cambiata l'icona all'interno del titolo. E' cambiato il nuovo menu con un nuovo sottofondo come state vedendo sempre nella schermata all'interno del titolo. Le altre mappe Shipment e Vacant arriveranno successivamente. Quello che mi viene da pensare è che ogni settimana faranno un 24-7 con una nuova mappa. Mi sarebbe piaciuto il loro arrivo contemporaneamente su tutte le piattaforme ma così non è stato. Per chi ancora non ha fatto la patch 1.10 vi ricordo che su Xbox One e PC è di 18 GB mentre su PS4 è di 16 GB. Queste al momento le notizie più importanti all'interno del titolo di Modern Warfare. Vi ricordo che oltre a Crash comunque all'interno di Guerra Terrestre è stata inserita Porto che vi avevo fatto vedere nei giorni passati e all'interno di Gunfight e Cargo ed Atrium. Quello che rimane appunto in stand-by è Gunfight con la raccolta armi a terra, infetto. Quindi vi sto dicendo quello che manca e che abbiamo visto appunto nel changelog con l'annuncio appunto della Season 1 e devono arrivare ancora Vacant e Shipment che saranno introdotte nel corso della Season. Vi aspetto ragazzi alle 13.30 in live su Twitch con i trap attivi così potete iniziare anche a riscattare le nuove ricompense che vi ho fatto vedere ad inizio video. Vi ringrazio ancora per tutto il supporto di ieri sera. Ci vediamo appunto alle 13.30 così iniziamo a nerdare seriamente questa Season 1. e passate ad iscrivervi su Telegram così non vi perdete nessuna notizia 24 ore su 24 sul mondo di Call of Duty e noi ci vediamo ad un prossimo video.